Presidente, facciamo il punto, lo stato delle trattative, molte chiacchiere in realtà, no in questo periodo? Ma in questo periodo si fanno tante chiacchiere, perché poi è l'inizio del calciomercato, appena finiti i campionati, tante idee, tante possibilità, è un momento in cui si parla molto. Un nome pesante per l'attacco, visto che dovrà essere totalmente rifondato. Daniel Ciofani, com'è la situazione? Come ho sempre detto, abbiamo cercato a gennaio, a gennaio non è stato possibile portarlo, se era incedibile in Serie A, credo che lo sia ancora di più in Serie B, visto che il Frosino non è sceso e che deve sicuramente ripartire per fare un campionato di vertice, quindi credo che la pista Ciofani sia tramontata. Si è parlato di Tuminello, in realtà è un obiettivo già dichiarato nella scorsa sessione di mercato a gennaio, in quel caso Tuminello optò per la scelta Lecce, perché pensava di giocare poco, poi le cose sono andate male per lui, insomma, soltanto 202 minuti, una partita titolare, un solo gol a questo punto? Tuminello rientra nell'elenco di quei giovani di grande prospettiva che ci sono in questo momento in giro, è sicuramente uno di quelli che guarderemo con attenzione, ma adesso sia Giorgio che Antonio Bocchetti stanno veramente visionando tutta una serie di giocatori e poi quando ci sarà l'occasione per affondare il colpo su uno o più di questi, lo faremo, però al momento no, non abbiamo neanche cominciato, non siamo vicini. Passi avanti nella trattativa col Parma per Canutè, questo lo possiamo dire, no? Io ho sentito anche Faggiano, è un giocatore che piace al Parma non da oggi ma da gennaio addirittura. Ma è un giocatore che secondo me per struttura fisica, per mezzi, tecnici, io sono convinto che possa far meglio in Serie A che in Serie B addirittura, perché tra i nostri giocatori credo che sia in assoluto quello che fisicamente può reggere botta a qualsiasi livello. Sicuramente al Parma è un giocatore che può interessare perché anche a gennaio eravamo stati vicini a una soluzione del genere. Con quella formula prestito con obbligo di riscatto se dovesse concretizzarsi questa trattativa? Ma io credo che prestito con obbligo, prestito con un diritto di riscatto, un contro riscatto da parte nostra, perché stiamo parlando, a mio avviso, di uno dei profili più importanti che abbiamo a pescare. Brugman? Ci sono aggiornamenti? Brugman è il nostro capitano, io sento parlare tutti i giorni, leggo tutti i giorni di Brugman a destra, Brugman a sinistra. Sicuramente ha tanti stimatori, sia nella categoria superiore ma anche nelle squadre di Serie B importanti che partono per vincere il campionato. Se il giocatore avrà voglia di continuare questa avventura a Pescara noi siamo i primi ad esserne felici. Se invece ci sarà l'opportunità per fargli cambiare aria e soprattutto per dargli la possibilità di giocare in un palcoscenico più importante di Pescara se ci saranno le condizioni noi non abbiamo mai legato nessuno, non legheremo sicuramente nemmeno Brugman. Intanto secondo Taluna in discrezione di mercato il Bari starebbe facendo una corte più o meno spetata a Perrot e così risulta? Ma il Bari credo che quest'anno voglia allestire una squadra per vincere il campionato, quello è fuori discussione anche perché è una piazza importante, è una proprietà importantissima quindi penso che De Laurentiis non sia andato a Bari per perdere del tempo e quindi sicuramente guarda quei giocatori che in quella categoria possono essere un valore aggiunto Marco ha fatto tante partite in Serie B, ne ha fatte tantissime in Lega Pro vincendo un campionato a Teramo facendo dei campionati importanti a Pescara e quindi ha tutte le caratteristiche per una squadra ambiziosa che in Serie C voglia fare un campionato di vertice. Personalmente non ho ricevuto nessuna offerta nel momento in cui la riceverò la valuterò anche questa insieme al ragazzo. Se dovesse andare via comunque Brugman il profilo giusto sarebbe quello di Palmiero che è un giocatore che io personalmente apprezzo molto, insomma la mia opinione è molto relativa però mi pare uno dei prospetti più interessanti di questa Serie B, classe 97 alto. Palmiero ha fatto un ottimo campionato a Cosenza, è un giovane che ha fatto a mio avviso la gavetta giusta perché è passato dalle retrovie e è arrivato a mettersi in mostra. È un giocatore con grandi qualità è chiaro che anche qui, ritorniamo al discorso di gennaio, i giocatori di questo tipo se devono venire a Pescara sapendo che c'è Brugman davanti non ci verranno sicuramente. Se dovesse partire un giocatore come Brugman sarà un giocatore a cui penseremo sicuramente. Davanti in questo momento soltanto Marras, probabilmente anche Sottil visto che insomma la Fiorentina rinnoverà, almeno così sembra, il prestito di questo promettentissimo attaccante. Ma qui ci sarà un po' da aspettare perché adesso nei primi giorni di luglio le squadre cominceranno a partire la Serie A comincerà a partire, sicuramente il ragazzo andrà in ritiro con la Fiorentina e poi se i tecnici della Fiorentina decideranno di mandarla a giocare un'altra stagione la destinazione è gradita al giocatore, gradita a noi, gradita alla Fiorentina stessa e a Pescara. Marras? Marras ha un anno di contratto qui da noi, dovremmo sicuramente parlarne, ha delle richieste sia in Serie B che in Lega Pro importanti. Vedremo un attimo anche nelle valutazioni che faremo noi e per quanto riguarda abbiamo preso Di Grazia, che è un ragazzo che probabilmente in pochi conoscono ma è un ragazzo molto molto bravo. Cosa ne sarà di Campagnaro? Ne avete parlato? Ma io credo che con Campagnaro si possa aprire un rapporto diciamo un po' diverso, non potrebbe rimanere magari nel frattempo cominciare a fare qualcos'altro, magari nel frattempo stare comunque nella rosa e all'occorrenza senza assilli né per lui né per l'allenatore, se è a disposizione magari anche farsi le sue partite, potrebbe succedere questo, però ne parlerò con Ugo al suo rientro dall'Argentina perché con Ugo i problemi non esistono e quindi un giocatore, soprattutto una persona con la quale noi abbiamo un rapporto veramente ottimo. A sinistra avete pensato per un attimo a Tommaso Dorazzo che tra l'altro è abruzzese, ha fatto un ottimo campionato a Cosenza? No, sinceramente no, anche se come dicevi tu ha fatto un ottimo campionato, è un giocatore anche che è passato per il Pescara. Il nostro giocatore è bandiera, però a sinistra abbiamo un nostro giocatore 2000 che purtroppo l'anno scorso pur partendo bene non ha mai trovato spazio, ma ha fatto molto bene in primavera, ha aiutato la primavera a vincere il campionato che è l'Isalde. Abbiamo del grosso e soprattutto abbiamo anche un altro giocatore che all'occorrenza può giocare lì che risponde al nome di Crecco, di Luca Crecco, quindi non è una preoccupazione nostra onestamente a sinistra. Quindi è l'Isalde comunque terzino-sinistro? Se rimane l'Isalde sicuramente potrà essere impegnato anche lì. Il tecnico della primavera? Nei prossimi giorni... Sciolte le riserve? Ma si scioglieranno nei prossimi giorni, noi avevamo speso una parola, un impegno preso già qualche mese fa su un progetto, su un discorso fatto e se dovessero rimanere in piedi certi discorsi che abbiamo fatto l'allenatore ci sarà già. Se non dovessero per qualsiasi motivo rimanere in piedi certi discorsi perché magari qualcuno ha qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto, che è stato detto andremo su altri profili. Sarà un tecnico abruzzese sì o no? Al momento quello che dico io, nel senso che quello che abbiamo noi come idea non è un tecnico abruzzese, è un ex calciatore che ha giocato anche ad altri livelli quindi sarà un allenatore nuovo per la piazza. Tuminello, Scamacca, l'uno esclude l'altro? Ma dipende su che tipo di giocatore vogliamo andare e soprattutto dipende su quanti giocatori in quel reparto vogliamo prendere e soprattutto... Dipende molto anche dal sistema di gioco, appunto, ma questo dipende dal mister. Ho di fronte proprio un potenziale allenatore quindi perciò mi sono permesso di fare la domanda al presidente e anche allenatore. Quello dicevo, se l'avessi fatto io potevo già dirti e risponderti di quanti giocatori e quali giocatori poter prendere. Siccome non sarò io l'allenatore, anche per quest'anno ci avremo un allenatore di professione e allora faremo decidere lui. Però è già un passo avanti da parte del presidente Sebastiano. Io quando farò l'allenatore ve lo dirò prima così faremo anche una presentazione del nuovo tecnico.